Da qualche giorno ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno richiesto atti e documenti vari riguardanti procedimenti amministrativi già conclusi da alcuni anni. Questa è la dichiarazione del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, sui controlli di questa mattina. Quest'oggi continua il sindaco con le perquisizioni presso la mia abitazione e il mio ufficio comunale. Tali operazioni possono dirsi terminate in quanto, detti operatori, hanno redatto processo verbale di conclusione. Personalmente sono tranquillo e fiducioso del lavoro dei magistrati. In riferimento agli atti che hanno visto la mia partecipazione quale sindaco della città di Agropoli, rimango sereno in quanto la stessa è stata sempre leale, imparziale e legittima.